A Ferragna ci sono arrivato con la domanda che avevo fatto quando ancora facevo il carabiniere, ho fatto la domanda e quando poi sono stato in licenza pre congedo 20 giorni ero andato a fare il colloquio e una volta congedato dopo pochi giorni, nemmeno un mese dal congedo mi hanno chiamato a Ferragna. La prima volta quando ho fatto il colloquio è stato un impatto terribile perché era una giornataccia di novembre, sento ancora oggi i brividi di quell'umidità di quel giorno, in più entravo in un posto che avevo solo sentito dire che sembrava per essere in Val Bormida una fabbrica a cui tutti ambivano perché in Val Bormida ci sono altre 3 industrie, c'era la Cochittaglia, tutto carbone, Funivie, quasi tutto carbone, Montecattini, prodotti chimici, non aveva una gran bella nomina. Invece a Ferragna dicevano, sai a Ferragna vanno a lavorare tutti con la cravatta, tutti vestiti bene, quindi il primo giorno ero un po' agitato. Una cosa mi ricordo con precisione del primo giorno, che non ho timbrato e non lo sapevo, non me l'avevano detto, non lo so. Il giorno dopo quando sono entrato e che andavo dritto anche quel giorno lì, per fortuna c'era uno che entrava con me e mi dice ma il cartellino non lo timbri? E cos'è il cartellino? E allora sono tornato indietro, mi ha spiegato come funzionava e da quel momento lì poi sono andato avanti. Io sono stato fortunato perché quando sono entrato è stato un periodo che a Ferragna entravano in tanti, nel 67 a Ferragna assumevano decine e decine di persone al giorno. Io sono entrato in un laboratorio che era appena stato istituito, lo chiamavano laboratorio prove fisiche, sono entrato e in combinazione ho trovato una persona che conoscevo da sempre, abitavo vicino a lui quando ero ragazzino e quindi non ho avuto nessuna difficoltà, mi ha insegnato quello che c'era a fare, non erano cose complicatissime e quindi poi con lui. Ecco una cosa che mi ricordo che mi ha creato qualche problema all'inizio perché tutti i prodotti che si andava a controllare erano contraddistinti da dei numeri e quindi ogni prodotto cominciava con almeno i primi tre numeri davano l'indicazione del prodotto perché li facevamo di tutto, dal negativo colore alla radio all'invertibile e il primo impatto è stato quello, mi ricordo che le prime settimane non riuscivo mai a capire dai primi numeri di che prodotto si trattava, poi invece una volta che entri nel meccanismo non ci sono problemi. Ho imparato dai colleghi perché lì almeno la divisione del lavoro, i capi controllavano, volevano solo avere il lavoro ben fatto e ti dicevano se andava bene o no, però poi almeno, poi c'erano anche i capi che seguivano e davano i consigli, però i più tanti chiedevano il lavoro ben fatto e finiva lì, però invece i compagni di lavoro aiutavano, poi trovi anche quello che non gli importa niente, però i più tanti ci si dava sempre una mano e poi diciamo che ecco una cosa che mi ricordo proprio come se fosse successa ieri, quando dopo la cassa integrazione ho cambiato lavoro e sono andato nel reparto che avevano istituito da poco, dove c'erano i controlli su tutti i prodotti, però i prodotti fotografici, facevamo tutti i controlli sulla foto. Sono andato a fare la notte, combinazione, mi avevano messo nel turno di notte, io arrivo lì e mi dicono guarda questa qui è la macchina sviluppatrice, me l'hanno fatta vedere a luce bianca perché ecco lì c'è una cosa, controllando prodotti fotosensibili è chiaro che i prodotti si levavano dai caricatori, dai luoghi dove venivano contenuti a luce, senza luce, al buio e quindi mi avevano fatto vedere sta macchina alla luce e poi dice guarda questi qui si fa così e fino a domani mattina alle 6 oltretutto ero da solo, funziona così e quella volta lì me lo ricordo perché ho detto oh mamma mia è qui dove sono capitato, invece anche lì è stata la prima notte è stata un po' più difficoltosa poi non ci sono stati problemi, anche perché di lavori complicati non ce n'erano. Quando sono entrato, come dicevo nel laboratorio prove fisiche, era un laboratorio che si svolgeva quasi esclusivamente alla luce perché erano prove fisiche, non avevano niente a che vedere con la fotosensibilità della pellicola, invece quando poi è cambiato a Ferraglia tutta l'organizzazione che sono stati fatti i nuovi reparti, io sono stato in cassa integrazione due anni, quando sono rientrato sono andato in quel reparto dove facevano controlli sulla fotografia, sui prodotti fotografici, allora lì invece io per dal 75 a quando sono andato in pensione le 8 ore che passavo a Ferraglia le più tante erano al buio. Lavorare al buio il primo impatto è terribile, perché se uno non ci è abituato dice oh mamma mia, qui adesso dove sbatto? Invece come tutte le cose poi ci si fa l'abitudine e intanto il buio non è totale, perché per i prodotti fotografici la chiamavano luce verde, era luce molto molto attenuata che però dopo un quarto d'ora che si stava dentro i contorni delle cose si vedevano, quindi ci si muoveva anche, intanto erano luoghi non molto grossi, grandi e quindi ci si faceva la mano alle dimensioni, si andava avanti toccando e poi dopo un quarto d'ora come dicevo i contorni si vedevano e non era un gran brutto. E poi io ancora adesso ho l'abitudine, quando a una certa ora ritorno a casa e non è ancora buio, io non accendo mai le luce delle scale, perché ci sono abituato, vado su così e non c'è nessun problema, non mi dà nessun fastidio. Eravamo veramente tanti, sono entrato nel 67, abitavo a Bragno, quindi a pochi chilometri dall'ingresso della fabbrica, d'estate andavo in bicicletta a lavorare. Una cosa che mi ha sempre impressionato, che me la ricordo ancora come se fosse ieri, arrivavo a Ferragna e intanto c'era sempre il passaggio a livello chiuso, perché in quell'ora arrivavano i treni. Una volta che avevano aperto il passaggio a livello, perché i treni erano ripartiti, c'era un lungo serpentone che partiva dalla stazione e che arrivava là, ma veramente tante persone. E la stessa cosa la sera. Entrati a Ferragna, la cosa che faceva impressione è che comunque quando si entrava, io ho sempre lavorato vicino alla portineria, non ho mai fatto, sì per qualche mese ho lavorato anche in fondo al reparto G e quindi c'era da fare tanta strada a piedi, se no normalmente ne facevo poca. Però quello che mi ha impressionato è vedere tutta la gente che comunque andava per rivoli, ognuno prendeva il suo, andava e poi dopo dieci minuti non vedevi più nessuno, perché ognuno era entrato e la fabbrica di fuori tutto chiuso, tutto silenziosa e tutti erano dentro. Quando si usciva, specialmente i primi tempi, non mi ricordo quando poi hanno levato le due uscite differenziate, una dove passavano gli impiegati e i dirigenti e l'altra dove passavano gli operai, dove passavano nell'entrata principale uscivano gli impiegati e i dirigenti, lateralmente uscivamo noi operai e prima di uscire dovevamo schiacciare una levetta che poteva far accendere o no una luce, quando si accendeva la luce bisognava passare in uno sgabuzzino dove c'era il guardiano che faceva o non faceva la perquisizione e poi lasciava andare. La perquisizione la facevano perché dicevano che era una questione di sicurezza, lì i prodotti, i caricatori erano cosine piccole e quindi bastava mettersele in tasca e se ne poteva portare via tanti. La cosa che non andava giù è che i capi che potevano mettersene tranquillamente in tasca non gli facevano e quei tempi lì oltretutto nel 67 l'autunno caldo, l'ambiente era un po' scaldato delle volte quelle cose lì si sentivano di più che poi dopo. Era un deterrente contro il furto di natura economica, perché almeno non credo che quelli che avevano istituito quel sistema di cose pensassero che degli operai potessero portare via dei documenti, delle cose di natura scientifica o di produzione industriale, non credo che avessero in mente quelle cose. Quando sono entrato io la proprietà era già americana, gli americani mi sembra che siano entrati nel 64, 65, io sono entrato nel 67, però la denominazione dell'azienda era in quel momento Ferragna consociata 3M, dopo qualche anno sarebbe diventata 3M e basta. E parlando con, io mi ricordo bene, essendo in un laboratorio di controllo, con persone che era una vita che erano lì, è proprio cambiato il modo di vedere la produzione. intanto quando c'erano gli italiani, anche per questioni tecnologiche, la velocità degli impianti era ridotta rispetto a quando poi hanno fatto gli impianti gli americani, però mi ricordo che c'era un impiegato che doveva dare l'ok agli assi perché dalla stesa passassero in tagliatura, passassero alla successiva lavorazione. Mi ricordo che quando questa persona doveva dire mettete a recupero un'asse, che voleva dire, quell'asse lì non va bene, buttatelo via, diventava quasi matto. Invece quando poi sono arrivati gli americani con la velocità distesa, triplicata, quadruplicata, sto signore qui mi ricordo che diceva, ma guarda lì, hanno messo a recupero 10 assi e non hanno fatto nemmeno una piega, che lui metterne uno veniva giù il mondo. Quindi era proprio un modo diverso di concepire la produzione, secondo me. Quando ho fatto domanda alla Ferragna, il posto di lavoro a Ferragna era ambito in Val Bormida, perché proprio oltre al lavoro che oltretutto non era remunerato bene, il lavoro paga oraria, mio papà ha sempre lavorato alla Cochitalia e guadagnava parecchio di più di me, lui era più anziano, però anche quelli appena entrati guadagnavano molto di più di me, però è chiaro che lì la cosa era diversa, a parte l'ambiente di lavoro che era diverso, ma lì alle spalle c'era tutta una serie di cose, l'infermeria che era attrezzatissima, dava tutta una serie di servizi che erano al livello del servizio, forse non c'era nemmeno, non c'era ancora il servizio sanitario, quella volta la si chiamava Inam e non funzionava moltissimo alla grande, invece a Ferragna c'erano i medici della fabbrica, venivano gli specialisti e quindi era già un vantaggio quello, poi c'era la cosa più ambita, mi ricordo perché dopo qualche anno mi sono sposato, ho avuto due bambini e c'erano i regali di Natale, che dalle altre parti al massimo arrivava un panettone e una bottiglia, lì invece c'erano i regali per i figli, c'erano una serie di cose che quelli che non lavoravano a Ferragna dicevano certo che sono cose che sono ambite e poi c'era la parte, quella lì era organizzata bene, il dopolavoro, c'era intanto un edificio che poi aveva, c'era il cinema, c'era il campo di bocce, la Ferragna ancora prima di diventare 3M organizzava i campionati nazionali di bocce, ci sono dei filmati che fanno vedere a San Pietro che era il patrono di Ferragna, facevano un torneo che si chiamava la boccia d'oro e poi quando sono entrato io mi ricordo che c'è stata la sezione turismo, chiamiamola così, di Ferragna che funzionava alla grande e c'erano delle gite strepitose, è stato un periodo che noi che lavoravamo a Ferragna ci potevamo permettere di andare dagli Stati Uniti in Inghilterra, in Unione Sovietica a dei prezzi veramente interessanti, perché una parte del costo lo metteva alla Ferragna, il dopolavoro e quindi quella cosa lì era abbastanza invidiata. A Ferragna lavoravano veramente tante donne, io ho lavorato, nei laboratori ce ne erano parecchie, diciamo che c'era una divisione, perché noi che facevamo i turni, tutti e tre i turni eravamo prevalentemente uomini, anzi solo uomini adesso che mi ricordo, mentre le donne facevano i due turni, si lavorava insieme anche per certi versi del lavoro, ma io ho lavorato proprio in turno insieme a delle donne gli ultimi anni, perché avevano fatto un nucleo che seguiva la produzione, allora mi è capitato. Diciamo che a lavorare, mi ricordo cosa si diceva, a lavorare insieme alle donne se ce ce n'è poche si lavora bene, se invece vai a capitare in mezzo dove ci sono tante donne cerca di non dire niente, perché è un problema, c'erano proprio dei problemi di… adesso non mi vengono in mente i termini, ma il fatto è che se ce n'erano poche le donne esprimevano di più le loro potenzialità, invece se ce ne erano tante, il fatto di… ecco, non mi veniva il termine, il pettegolezzo prendeva sopravvento. Io mi sono sposato con una ragazza che lavorava a Ferragna e che oltretutto lavorava in un reparto di fronte a me, combinazione ci siamo conosciuti durante le ferie, perché abbiamo lavorato durante le ferie e siamo andati a mangiare a mensa nel periodo che non c'era quasi nessuno. Io mi sono sposato lì, ma ce ne sono stati tanti che si sono sposati a Ferragna, per carità. E poi c'è stato anche il fatto di esserci tante coppie a lavorare a Ferragna, quando poi c'è stata la crisi, ci sono stati licenziamenti, c'è stata proprio la guerra tra poveri, il fatto che si diceva via i doppioni prima di mandare via quelli che sono un capofamiglia. Io comunque gli scioperli ho sempre fatti tutti, ero da quella parte lì, quindi dalla parte di chi scioperava e quindi, no, vabbè, forse perché, no, mia moglie li aveva sempre fatti anche prima di sposarci, però è chiaro che ci siamo trovati d'accordo anche su quello. Chiaro che a fine mese pesava, specialmente ci sono stati dei periodi un po' pesanti, quando ci sono state le ristrutturazioni e gli scioperi erano numerosi, è chiaro che alla fine mese quando il fatto già di avere due stipendi comunque aiutava, è chiaro che il fatto che quando a fine mese arrivi con la metà comincia a pensare, mamma mia, però la partecipazione allo sciopero secondo me non era determinata dai più, poi c'erano anche quelli che ci facevano caso per carità, perché se uno era da solo a lavorare e aveva tre figli a casa, è chiaro che ci faceva un po' caso al fatto di arrivare a fine mese con uno stipendio dimagrito, però almeno per quello che mi ricordo io la partecipazione agli scioperi poi era determinata da tutta un'altra serie di punti di vista. L'impatto ambientale della fabbrica, quando sono entrato c'erano già gli americani e secondo me gli americani vedevano più a lunga distanza rispetto a quello che sentivo di quello che era successo con gli italiani, probabilmente avevano anche a disposizione delle altre conoscenze, la tecnologia non lo so, probabilmente negli Stati Uniti era più avanzata l'opinione, il modo di pensare rispetto all'impatto ambientale, almeno quei tempi là, perché ho l'impressione che poi gli siamo passati davanti noi, però quei tempi là mi ricordo che già ci pensavano al fatto che una fabbrica dovesse essere nel contesto dell'ambiente che non dovesse impattare tanto e poi se invece impattava cercare di ammortizzare le cose, un po' con il fatto perché là si sono fatti l'impianto di depurazione senza aspettare che lo facessero i comuni, che l'hanno fatto mi sembra prima degli altri a Ferragna l'impianto di depurazione e poi erano furbi, perché hanno fatto il parco della Delasia, hanno coinvolto le associazioni ambientaliste, hanno fatto tutta una serie di cose per cui anche come… adesso non mi viene… però all'esterno la gente vedeva la Ferragna come uno stabilimento che aveva in mente anche la compatibilità ambientale, anche se poi non era proprio tutto come quello che sembrava, perché veramente all'esterno sembrava quasi tutto rose e fiori, non lo era però ci pensavano. A Ferragna ho passato diciamo una bella parte della mia vita, forse sarà per il fatto che la mente non vuole tenersi tanto i brutti pensieri, però io se guardo indietro, per carità sarò anche stato fortunato, però mi ricordo i capi, i capi diretti, non diciamo quelli troppo in alto, però i capi diretti ho avuto sempre un buon rapporto. Con l'ultimo siamo ancora… noi siamo in cinque che lavoravamo insieme, che ci troviamo ancora una volta all'anno a ricordare i bei tempi e poi diciamo ad aiutare il nostro ex capo a proseguire una delle sue passioni, lui è un appassionato inogastronomo e noi ci accodiamo. Io mi ricordo come… io sono entrato nel 67, quindi l'anno dopo c'è stato l'autunno caldo, quindi le scioperi a non finire, problemi, perché poi come dicevamo prima, fare gli scioperi era anche rientrare il giorno dopo e avere a che fare col compagno di lavoro che invece non lo faceva. Io una cosa me la ricordo, questa mi viene in mente adesso, quel giorno lì non ero proprio contento del tutto, il capo reparto che chiama tutti… Io eravamo in due a fare sciopero in quel reparto, gli altri non lo facevano in quel momento, erano i primi anni, poi qualcosa è cambiato, ha chiamato quelli che erano con me, eravamo in quattro, tre li ha passati di categoria, io sono rimasto lì, però io tenendo presente che io quando gli scioperi li facevo sapevo benissimo a cosa andavo incontro, quindi non me la sono presa nemmeno tanto, però non ero proprio contento quel giorno lì.